Negli ultimi 20 anni Aviva Investors ha lavorato sul tema ISG e sull'integrazione di questi fattori nel processo di investimento. Negli ultimi 5-6 anni abbiamo visto un significativo cambiamento nella domanda degli investitori, sia per quanto riguarda gli effetti di un approccio ISG sulla performance, sia su come le case di gestione sono in grado di influenzare l'azione delle compagnie in cui investono e quindi la società nel suo complesso, nell'ottica di un miglioramento della qualità della vita complessiva. Se guardiamo ai fattori ISG nell'arco degli anni, andando dagli aspetti di governance come i rapporti fra i vertici delle società e il board in un'ottica di sempre maggiore indipendenza, o anche ai fattori climatici come ad esempio l'impatto sulla performance finanziaria dell'utilizzo di combustibili fossili, ci accorgiamo di come questi aspetti siano sempre più importanti nella valutazione complessiva di una società. Sia che si propenda per una prospettiva ambientale o per una più attenta al trattamento della forza lavoro, le ricerche sul tema ISG mostrano come l'applicazione di criteri attenti alla sostenibilità sia neutrale o positiva in termini di performance assoluta.